Sconcerto, indignazione, urgenza di fare chiarezza. Sentimenti e necessità esternati oggi in conferenza stampa dai consiglieri comunali pesaresi di centrodestra Marco Lanzi, Serena Boresta, Giulia Marchionni, Daniele Malandrino, Dario Andreolli, Antonio Bartolomei e Cristina Natalia Canciani intervenuti a nome di tutto il gruppo consigliere d'opposizione per chiedere una richiesta di accesso agli atti e l'istituzione di una commissione d'inchiesta che approfondisca il caso di finanziamenti a due associazioni Opera Maestra e Stella Polare che avrebbero ricevuto dal Comune 330 mila euro in due anni e mezzo per interventi quali riqualificazione e manutenzione di piazzale d'annunzio e organizzazione di diversi eventi culturali. Secondo un'inchiesta sollevata dal resto del Carlino emergerebbero gravi lacune sulle rendicontazioni di come questi soldi siano stati effettivamente spesi. Parliamo di due associazioni Opera Maestra e Stella Polare che sono due associazioni culturali no profit che non hanno dipendenti, che hanno dei volontari che comunque non sono iscritti all'INE né all'INPS, quindi sono due associazioni che dovrebbero avere soltanto degli scopi culturali. L'inchiesta del resto del Carlino ha permesso di appurare che fino adesso negli ultimi due anni, due anni e mezzo circa, sono stati affidati quasi 330 mila euro a queste due associazioni, una cifra enorme, ma stiamo parlando di soldi pubblici, soldi di cittadini. Quindi è chiaro che in questa cosa noi veniamo a vederci chiaro, anche perché è stato nostro cavallo di battaglia durante la nostra campagna elettorale, quella della trasparenza. Qui parliamo di soldi pubblici, quindi se questi soldi pubblici vengono assegnati a qualcuno, in questo caso delle associazioni, è chiaro che è giusto che i cittadini possano vedere come vengono spesi questi soldi. E se vengono spesi, come? Ci devono essere delle fatture, delle uscite, deve essere tutto trasparente. Anzi, noi abbiamo più volte chiesto che questi movimenti contabili siano consultabili da ogni cittadino online. Ci deve essere una totale trasparenza. Centrodestra pronto a portare sul tavolo del Consiglio Comunale un decalogo di domande specifiche per la Giunta Biancani con la necessità di fare chiarezza sulla questione. Troppo spesso in questi anni abbiamo denunciato la mancanza di chiarezza e di trasparenza da parte della Giunta Ricci e questa volta lo vogliamo fare ponendo un decalogo delle domande ferme rispetto a quelle che sono state le attività di queste due associazioni che fanno capo ad un unico legale rappresentante, domande aperte rispetto agli affidamenti diretti, rispetto agli incarichi e ai soldi incamerati. Ad oggi non sappiamo chi è socio di queste associazioni, non sappiamo come sono stati spesi i soldi incamerati, non sappiamo se esistono delle fatture pagate da parte di queste associazioni e per questa ragione, a norma dell'articolo 37 dello Statuto del Comune di Pesaro, abbiamo deciso che provvederemo alla richiesta di costituzione di una commissione di inchiesta su questo tema specifico rispetto al quale ci auguriamo che tutte le ombre e i dubbi che in queste ore si stanno così pian piano, che stanno venendo alla luce, trovino chiarezza. Ovviamente questa commissione dovrà essere votata dal Consiglio Comunale di cui noi facciamo parte nella minoranza, ci auguriamo che la maggioranza in maniera compatta insieme a noi sia concorde nell'attivare questa commissione di inchiesta e venga fatta luce al più presto a favore di tutta la collettività. E' di oggi la notizia che il Sindaco Biancani ha tagliato il budget organizzativo per il prossimo Paglio dei Braceri togliendo l'acquisto dei servizi dalla disponibilità dell'Associazione Opera Maestra. Questo per noi è molto importante perché in questo ci deve essere piena trasparenza, quindi è una missione, credo, da parte del Sindaco di questa Giunta che qualcosa che non va, chiaramente c'è. E' chiaro che noi vogliamo vederci chiaro, quindi abbiamo fatto già una richiesta di accesso atti, vogliamo vedere veramente fino in fondo come questi soldi sono stati spesi. E' chiaro che io credo che il Sindaco Biancani non si possa smarcare del tutto da questa situazione perché l'abbiamo fatto in un'altra conferenza stampa, la Giunta è la stessa, le persone sono le stesse. E' la stessa Giunta che negli scorsi anni comunque ha deliberato queste assegnazioni dirette a queste associazioni.